Presentata questa mattina la terza edizione della manifestazione Platan Fest Estate 2012. Teatri, musical, cantastorie e tant'altra ancora che si svolgeranno nella frazione Cese di AC Platani da questa sera a martedì 4 settembre a sabato prossimo 8 settembre. La manifestazione è organizzata dall'associazione Le Formiche, con l'aiuto del Circo dei Lavoratori Cattolici, della parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo e dal Comune di Acireale. Un ruolo determinante per la realizzazione dell'evento è stato quello del consigliere comunale Roberto Barbacallo. Sentiamo adesso la voce dei protagonisti. L'associazione Culturale Formiche, come ogni anno a ritorno dalle vacanze, perché credo che ormai siamo agli sgoccioli, organizza una settimana nella frazione di 10 platere con diversi spettacoli. Diciamo che l'organizzazione è stata eseguita, oltre che l'associazione Le Formiche, dal sottoscritto anche dall'ex consigliere Sebastiano Di Mauro, con il quale abbiamo trovato un'intesa importante per realizzare queste manifestazioni che saranno fatte da tre teatri. Iniziamo oggi con l'Itterio, infatti aspettiamo numerosissime tante persone che seguono Enrico Guarneri. Continueremo con due teatri e concluderemo la settimana sabato con il cantastorio Luigi Di Pino. Questo è il terzo anno di Platanfest. È una manifestazione che vuole dare vivacità alla comunità di Aciplatini, che malgrado le varie problematiche che sono presenti ha trovato la forza di mettersi in cammino. Infatti tanti e tantissimi qua da Aciplatini ci hanno dato una mano per, speriamo, la buona riuscita dell'iniziativa.